salve salve ciao voi vi chiederete perché questi tre si sono vestiti da precari perché sono vestiti i nostri perché noi siamo precari veri doc 100 per cento quindi chi meglio di noi vi può dire come sono precari e non è che siamo nella vita che ne so farmacisti oppure facili no noi siamo precari e vi diciamo una cosa ricordatevi i precari sono persone oneste chiaro arrivederci ma è un mal ostaggio onesti via 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 via